Pistilli studiò recitazione al Piccolo Teatro di Milano, diplomandosi presso la Scuola d'Arte Drammatica nel 1955. Non romperà mai i legami con il teatro, e spesso tornerà ad apparire in opere dirette da Giorgio Streller. Comparve in diversi spaghetti western come Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo, dove interpreta il frate francescano fratello di Tuco, e per qualche dollaro in più impersonando il braccio destro dell'indio. Groghi, ha interpretato inoltre l'assassino Alberto nel film di Mario Bava Reazione a Catena, 1971, ed ebbe un ruolo importante nella popolare serie televisiva italiana La Piovra 5. 1990, interpretò inoltre un alcolizzato nel film di Sergio Martino Il tuo vizio è una stanza chiusa e, solo io ne ho la chiave. È stato anche un doppiatore, prestando la voce ad attori come Michael Goh, Alfred Pennyworth, in Batman, Noblu Willingham, Jen, Taylor, in Good Morning, Vietnam, Richard Libertini, Barbaspina, in Popeye Braccio di Ferro e Azutomu Yamazaki, Nobukado Takeda, in Kajemusha L'Ombra del Guerriero. In televisione è stato fra gli interpreti della donna di picche miniserie televisiva con il tenente Sheridan, protagonista in Boezio e il suo re, 1974, per la reggia di Pietro Schiva Zappa.